L'uscita di Naoni che poi mette subito la seconda e con l'appoggio al vetro va a segnare nel cercare di trovare il canestro cosa che invece riesce tranquillamente altro errore per la formazione di coach albanesi poi Mobio piedi per terra la tripla di Mobio nella vittoria in quella di Firenze in finale contro Reggio Emilia Naoni intanto da tre punti e alla fine entra la tripla stoppata da parte del numero 41 Porto e poi alla fine il punteggio di Trento Naoni vuole sfidare Nabuife la penetrazione e la spinta da parte dell'Anna altro errore corre corre incontro piede Brescia come l'avevo visto così dall'arbitro davanti alla mia postazione alla fine del tabellone recita che per Jobstrei Bizer sono tre punti Trento così sotto le 20 lunghezze sono 19 per l'esattezza Saoni scusate Naoni passo incrocio che va poi a su il migliore marcatore dell'incontro seguono 11 Naoni che va a quota 13 con questo Mobio piedi per terra tripla per la formazione bresciana di coach Mirko Baltieri intanto ancora difesa grande da parte di Naoni che recupera il pallone poi vuole sfidare Porto mamma mia mamma mia che giocato Santi Poghidini extra pass per Tanfoglio con la tripla Naoni che subisce